le persone contano in quanto tali e non per quello che posseggono. È facile riferirsi a questo proposito a quanto insegna la parabola evangelica del padrone della vigna che dando la medesima paga ai suoi operai gli considera per ciò che sono e non per quanto essi possono produrre. Il principio di base della democrazia europea